ariete il sole in transito nel segno è una garanzia di forza e vitalità mentre venere in un lungo anello di sosta ma in moto retrogrado potrebbe far emergere questioni sentimentali spinose toro marte e mercurio nel segno attivano le vostre risorse mentali l'andamento impetuoso si rivela nelle relazioni e nei pensieri meno concilianti e più aggressivi gemelli la giornata rilancia le questioni che nascono dalla vostra emotività e sensibilità che oggi nonostante la luna di passaggio assumono toni più spenti cancro è un periodo di trasformazione interiore che si riflette sulle vostre scelte ma ancora non avete davanti la giusta soluzione anche se una ventata di positiva energia riattiva il vostro circuito leone la dissonanza di marte e mercurio infligge un periodo un po' turbolento nell'approccio alle questioni inerenti lavoro e rapporti interpersonali l'amore invece vi chiama vergine state ritrovando la vostra verve mentale che razionalizza tutto ciò che avete intorno ma vi rende anche un po' polemici e analitici rischiando di inasprire i rapporti bilancia giornata di buona e ampia sintonia intima che vi fa scivolare verso un andamento più leggero e piacevole corriero di un orizzonte migliore che dovete sapere attendere scorpione il periodo mostra la sua dose di aggressiva sfida a ciò che non ritenete adatto alla vostra vita cercate di equilibrare le vostre energie senza irrigidirvi in forme mentali spinose sagittario la giornata appare un po' sottotono intrisa di percezioni emotive distorte che possono provocare atteggiamenti meno socievoli e più meditativi capricorno la sfera affettiva e sentimentale richiede una maggiore partecipazione la capacità di affrontare alcune problematiche buone notizie in ambito lavorativo acquario distratti e pungenti non è il momento migliore per coltivare o allacciare rapporti interpersonali ma ancora il vostro cielo astrale sostiene favorevolmente le necessità di base pesci imbrogliati da una luna nemica oggi siete poco propensi a cullarvi nelle fantasticherie e siete più irritabili ma determinati a dare forma ad un progetto innovativo buone stelle